Napoli se vuoi fare le cose semplici di parcheggiare la macchina non le puoi fare ma se hai un miracolo da fare quello lo puoi fare Ebbene sì ragazzi, siamo atterrati a Napoli per fare un bel weekend nella città più bella del mondo con me c'è il buon Yaki Forza Napoli che oramai Yaki è napoletano e quindi ha detto caro Disca, Napoli è la nuova Milano e quindi dobbiamo fare il weekend Ciao Luca, eccoci qua Prima tappa ragazzi, Università Federico II di Napoli Dopo Venezia andiamo di nuovo in Università Non ci siamo mai andati a studenti? Esatto Io sì, un pochino sì dai Un pochino Notare l'effetto delle scarpe di Yaki in questa macchina Yaki, velocissimamente cosa andiamo a fare in Università? Andiamo alla ricerca di storie interessanti alla Developer Academy di Apple che hanno fatto qua a Napoli Ci sono i ragazzi che finiscono il loro percorso e domani fanno la graduation quindi poi andiamo anche a vedere la cerimonia e tutte queste cose molto belle c'è un sacco di gente interessante e un sacco di ragazzi che hanno fatto tantissime applicazioni e cose fighissime Quindi Yaki sta cercando un coder La ricerca di personale Esatto Qualcuno che gli farà l'applicazione del futuro Poi ci sono veramente un sacco di cose Vedrai, vedrai Che bella situazioncina ragazzi C'è anche la musica Università degli studi di Napoli Federico II Una delle università più antiche d'Italia Nata nel 1224 È sempre preparatissimo questo ragazzo Che ho scoperto vuol dire Abbassa la tendina In 15 minuti ma l'ho capito Scusami per piacere Vuoi togliere un attimo Abbassi quella tendina È per tuo tempo È giusto È giusto È giusto Quindi abbassi quella tendina Vedete muovere più la porta Perfetto Così Il colpa è non amare queste cose Io faccio video per i social Ho un canale YouTube Wow, hai video di social? Sì, sì, sì Allora io ho una pagina sui social Si chiama Il gatto napoletano Si chiama Ah, madonna di Dio Oddio mio Oddio mio Che spavento Oddio mio Che paura Io ho perso 15 anni di vita No ragazzi Io mi sono cagato addosso Il gatto napoletano Il gatto napoletano Comunque Dopo una capatina all'università Dove torneremo domani Adesso andiamo a vedere Uno dei più grandi artisti del mondo viventi Che da poco ha aperto il suo museo Qui a Napoli Prima era il suo studio Adesso il suo museo Andiamo da Iago Mi faceva notare Iachi Che nonostante siamo in mezzo al casino di macchine Sono tutti tranquilli Nessuno suona A Milano avrebbero già ucciso qualcuno Capito? E invece qua no C'è un casino incredibile Ma non si usano i clacson Interessante questa cosa Ovviamente qui è ancora la città tutta in festa Per la vittoria del Napoli Festa che durerà praticamente per i prossimi 35 anni Eccoli Ciao 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 Permesso Benvenuti Mamma mia Pazzeschi Ciao la pelle d'occa Mamma mia ragazzi Che immensità Io quelli li ho visti a Monza la prima volta Vero Io li ho visti mille anni fa a Monza questi cuori Porca miseria Che belli Questo museo è una scultura perché? Perché deve essere restaurato Quindi deve essere riqualificato Ed è un percorso Come fare una scultura? Ci vorrà tempo Come lo faremo E quindi è interessante Mancano per esempio i monitor Che raccontano l'opera E questi cuori ragazzi Sono chiaramente lo stesso cuore Nelle varie fasi del battito Magnifico E questa l'ho realizzata qui È per quello che la fai cercare alla gente Tra l'altro quando me lo chiedono Io sto davanti all'opera Guardo altrove Ah ecco 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 Io che cosa faccio? Lo scultore Polvere e rumore Bene ragazzi Visita finita Andiamo a mangiarci una pizzetta Siamo a Napoli Napoli dicevo Se sei un creativo diventi più creativo Se sei uno strunzo diventi più strunzo Guarda che roba Guarda Guarda che spettacolo La despa rossa E' un film questo posto Il film che ha diventato a favore Dov'è il regista? E adesso ragazzi pizza E' tutto così magico Prego ragazzi Cin, cin, cin Manino ha tre consistenze di zucchine crudo e provola Dall'altra parte abbiamo Tonino Tre consistenze di carote, olive verdi e fior di lacro Io ho la versione vegana Che sarà buonissima Il collega aggiunge un po' di zesta di limone Prevero in fiume verde di fiume Quindi non piccante Buonissima Panina e caporpetta Comunque Nusret Spostati veramente Tanta roba Non c'è per favore Ma qua ogni posto c'ha le sue robe assurde Capito? Vai da lì ti fanno volare sulla folla Vai da quegli altri ti fanno girare la piccetta Ia che è innamorato di Napoli E me la sta passando questa cosa E' tutto magico qua Tutto Napoli se vuoi fare le cose semplici Perché già la macchina non le puoi fare Ma se hai un miracolo da fare Quello lo puoi fare Mamma mia Iago Grazie mille E io vabbè la io si chiudendo la tecnologica Ho capito che siamo con Iago e Iaki Ma mi sembra un po' eccessivo Mi sta accogliendo Pazzesco Napoli ragazzi Pazzesco E' bellissima ragazzi questa città E' viva Trasù da vita Allora brevemente La sfida è partire da qui E arrivare fino là in fondo Passando in mezzo ai due cavalli A occhi chiusi In questo caso Se non abbiamo la band Certo Vediamo Vediamo Iaki Vediamo Come cazzo Questo è il richiamo di Milano Secondo me Secondo me ti puoi fermare Iaki Hai già fatto una figura meschina Stai andando di là Ma perché questa cosa Io stavo anche cercando di controbilanciare Cazzo incredibile Adesso Adesso Che a te Vai Giù le mani Giù le mani Giù le mani Tanto ci crediamo Sempre dritto Mi raccomando Secondo me io ce la faccio facile Sì sì Facilissimo Benissimo Proprio facilissimo Cazzo Stai già andando fortissimo Secondo te dove sei adesso? Io mi sento veramente quasi vicino ai cavalli Quasi vero? Sei vicino ai cavalli Guarda sei vicinissimo ai cavalli Cioè proprio vicino ai cavalli Non è possibile questa cosa È incredibile È incredibile Com'è che avevamo detto È facile Ma tu sei andato dall'altra parte Voi tu siete morti intanto Porca vacca Sarebbe stato bellissimo Se lo facevate insieme Bellissimo Ragazzi Primo giorno qui a Napoli Volato da Castel del Lovo È tutto Ci vediamo domani Buonanotte Ma buongiorno 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 Un po' di musica per mettere l'atmosfera E chi stucca? Mi hai fatto un amurà Ai dieci in amore Vambola E si torna all'università Federico II Per la graduation dell'Apple Developer Academy Developer Academy E siamo di nuovo in università Caffè normale con la cremina Caffè reale Molto buono Buonissimo Veramente speciale il caffè con la cremina Che cos'è la Apple Developer Academy? È un percorso di studi In collaborazione tra Apple E l'Università Federico II di Napoli Con un concetto completamente nuovo Dove per esempio non ci sono voti Ma chi studia qui Appunto lo fa per una vera passione Per quello che sta facendo E oggi questi ragazzi si diplomano Ecco quelle che scorrono lì Sono tutte le app Che sono state sviluppate in questo progetto C'è molta frizzantezza Molto entusiasmo Non sembra di essere a scuola Capito? C'è qualcosa nell'aria È diverso È un nuovo concetto di formazione È l'aria di Napoli Più la magia di Apple Dice così perché lo invitano a Cupertino Cori da stadio Hello Apple e Roma Academy So let me start by saying Forza Napoli È una di noi È napoletano Thank you Apple Thank you Federico II We are done You are graduated Veramente è stato emozionante Mi contento di essere stato qua Perché è stata un'esperienza pazzesca Non ho mai visto così tanta passione in una scuola Bello Ciao Luca Ciao 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 In tutto questo qui abbiamo anche due importanti azionisti Apple Esatto Quindi insomma La nostra azienda La nostra azienda ha performato bene Comunque se dovessi spiegare che cos'è questa developer Academy Mi viene da dire che è un metodo che Apple in qualche modo utilizza per creare fino a partire dalle scuole il suo ecosistema Creare l'app non è solo sviluppare codice ma è anche capire i problemi delle persone E il codice non è altro che un mezzo per aiutare a risolvere quei problemi Alla fine ragazzi il codice è una lingua Esattamente come l'inglese, il russo, lo spagnolo Il codice è un qualcosa che ci permette di comunicare E questi ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile Veramente pelle d'oca Complimenti Spiegatemi cosa stiamo andando a fare Ora ti faccio vedere l'auto che noi costruiamo Come affiliati della Università Federico II In pratica i ragazzi qui hanno costruito un'auto a partire da zero Sì completamente Andiamo a vederla In pratica i ragazzi qui proprio mettono fisicamente le mani nella costruzione dell'auto Cosa che alla fine del loro percorso di studi Li trasforma in delle persone super appetibili per il mondo dell'automotive Infatti mi raccontavano che praticamente tutti i laureati di questo corso poi trovano subito lavoro appunto nel motorsport addirittura in Ferrari Finito l'evento di Apple adesso andiamo in via Toledo perché dobbiamo vedere un appartamento Lo so non fatevi domande ma con gli Achi succedono queste cose E siamo nella galleria E dopo la visita all'appartamento un bel caffettino da Gambrinus uno dei locali più storici di Napoli 1860 Però quello con la cremina era più buono Ma lei non l'ha pagato Eh no, eh no, eh no Dopo Gambrinus andiamo nel vero cuore pulsante della città ovvero i quartieri spagnoli Perché Napoli è un melting pot di cose, capito, l'influenza spagnola, l'influenza del nord, del sud, della Grecia Cioè tutto, è il posto dove essere in questo momento Comunque gli Achi che spiega Napoli è la cosa più divertente del mondo Buonissima Chi è Nusrat in confronto a Napoli? Veramente anche la limonata è uno show, è un teatro Bellissimo Napoli è come il bar di Salvo ma tutta la città Esatto Benvenuto nel santuario Eccolo qua Ma quanta gente c'è qua ragazzi, incredibile Eccolo lì Pazzesco questo posto Avevi ragione Yaki, c'è un'energia particolare Senti che nell'aria c'è qualcosa Eccolo lì Davvero al mondo non esiste un posto così È incredibile quanto sia impregnato di passione e cultura questo luogo davvero è pazzesco Esatto Andiamo nella stessa direzione Riportiamo noi Ho il navigatore, ce la facciamo Ciao Andiamo, andiamo C'è da New York New York Tirreni Forse Forse dovremmo andare a cava dei Tirreni Ciao Piacere Ciao Con Vincenzo siamo andati alla scoperta della costiera amalfitana Quindi ragazzi iscrivetevi al canale Attivate la campanella Perché settimana prossima uscirà il video di questa meravigliosa avventura In uno dei posti più belli del mondo Ci vediamo la settimana prossima Nella prossima puntata Ciao